Ipotizzare una situazione di normalità in una situazione di emergenza non ha senso. Maturità online, tutti promossi e nuove assunzioni. E' infatti arrivato l'ok al decreto scuola. La parola chiave adesso è 18 maggio. Se la scuola infatti riprendesse regolarmente entro questa data, via libera ad un esame di Stato e ad un esame di terza media light, altrimenti ci sarà una prova orale per il primo e lo scrutinio per il secondo. E' molto improbabile, secondo me, che le scuole possano riaprire, perché le scuole non hanno ambienti adatti alla distanza tra l'unni e quindi sono, come dire, dei brodi di cultura del virus stesso. Tutti gli studenti saranno ammessi automaticamente all'esame. Gli esami di Stato avverranno in un contesto a distanza e con tutta probabilità si risolveranno in una interrogazione diciamo così più estesa, più approfondita. Sicuramente non si tratterà di un esame severo e neppure rigoroso come quello degli anni precedenti, però non sarà, diciamo così, una sanatoria semplicemente. Gli studenti degli altri anni saranno invece promossi, visto che per la situazione eccezionale non sono previste bocciature. Si prevede anche un certo tipo di votazione, di voto, che dovrebbe scaturire dall'impegno degli alunni durante la DAD, la didattica a distanza. Disposte inoltre anche nuove assunzioni per recuperare i posti che si sono liberati nella scorsa estate grazie ai pensionamenti dovuti a 400, circa 4.500, i posti che andranno ad altrettanti insegnanti. Stanziati infine 85 milioni, di cui 70, dedicati ai device, soldi già nelle casse degli istituti scolastici che li spenderanno per l'acquisto di tablet e pc per tutti gli studenti meno abbienti. Noi abbiamo avuto, mi sembra, una cifra disponibile di 11.500 euro circa e abbiamo proceduto immediatamente ad acquistare dei portatili. Io li sto attendendo, poi dopodiché mi rivolgerò alle forze dell'ordine per la consegna a casa degli alunni di questi stessi computer.